Oggi andiamo a vedere come modificare la propria immagine con l'intelligenza artificiale. Ciao a tutti, benvenuti nel canale. Oggi, come vi dicevo, voglio farvi vedere un nuovo tool di intelligenza artificiale che sto testando da diversi giorni. Vi farò vedere passo per passo alcune funzioni di questa intelligenza artificiale, ma ce ne sono veramente di tantissime che sto ancora imparando ad utilizzare. Cercherò di analizzare alcune funzioni interessanti di questo tool, soprattutto per quel che riguarda l'incisione laser. Ma veramente ce ne sono interessanti, ce ne sono svariate da poter utilizzare. Ma magari mi soffermerò solo su alcune. Se poi vi interessano questi tutorial, vi spiego magari passo per passo altre funzioni di questa intelligenza artificiale. Ma come sempre voglio ringraziare anche i nuovi abbonati al canale. E se anche a voi interessa abbonarvi al canale per vedere i video in anteprima, cliccate sotto sul link nella descrizione. Ovviamente potete accedere alle anteprime del video e anche a delle eventuali esclusive che inserirò in futuro. Bene, passiamo al PC e andiamo a vedere come modificare la nostra immagine grazie a questa intelligenza artificiale. Bene, eccoci al PC. Come vedete l'intelligenza artificiale che voglio parlarvi oggi è Leonardo.ai. È un'ottima intelligenza artificiale per la realizzazione delle nostre immagini. Per la registrazione è molto facile. Potete sia utilizzarla gratuitamente che a pagamento. Ovviamente a pagamento si sbloccano tante features in più. Però già quelle che troviamo gratis vanno più che bene. Poi vi faccio vedere anche gli abbondamenti mensili e quanto costano. Ma partiamo dalla parte gratuita e andiamo a esaminare questa intelligenza artificiale che secondo me è migliore addirittura di quella di Copilot che viene utilizzata su Bing. Quindi per accedere basta che vi registrate o col vostro account Apple o col Google con Microsoft oppure inserite la vostra email. Una volta logati questa è la pagina iniziale di Leonardo.ai. Come vedete ci sono già delle immagini create da tante persone che sono state rese pubbliche. Quindi voi potete anche scaricarvele tranquillamente. Qui come vedete c'è scritto tutto quello che serve per realizzare queste immagini. Dal prompt, quindi quello che ha scritto la persona per creare queste immagini. Dalla tipologia di immagine creata. Poi andiamo a vedere man mano perché ci sono esempio la risoluzione, la pipeline alchemy che vi consiglio di tenere sempre alchemy perché sfrutta l'ultima versione di intelligenza artificiale di Leonardo. E poi il modello, il preset. Ci sono diverse cose da tenere presente. Adesso ve le faccio vedere pian piano. Comunque se voi volete potete o sia scaricarla, andate qui e fate download e la scaricate tranquillamente. Oppure potete generare un'immagine simile. Quindi vi dite generami un'immagine con questa funzione photorial che è una versione di Leonardo tra le tante che si possono utilizzare. Questo intanto per farvi capire che all'interno ci sono già delle immagini create che potete scaricare. Inoltre potete seguire anche la persona mettendoci qui il follow così potete seguire tutti i suoi ulteriori sviluppi. Quindi qua scorrete e ne trovate a bizzeffe di immagini. Però andiamo passo per passo. Quindi per prima cosa dobbiamo andare su image generation. Vi faccio vedere le parti più principali altrimenti diventerebbe un tutorial lungo. Ma non ci interessa per il laser quindi mi focalizzerò principalmente su quello. Quindi andate su image generation. Come vedete qua ci sono tre tipologie. Generation history che è tutto quello che voi avete creato. Image guidance che qui poi vi spiego potete inserire le vostre immagini. Poi vi spiego passo per passo. E il prompt generation. Prompt generation sarebbe praticamente dei consigli che vi dà l'intelligenza artificiale da inserire qui. Quindi potete scegliere tra due, quattro, sei, otto prompt che lui vi genera. Sono dei testi che praticamente vengono generati da inserire qui in base a quello che voi volete creare. Benissimo. Partiamo dalla parte sinistra. Qua possiamo selezionare... Allora, prima di tutto voi avete 150 crediti al giorno nella versione gratuita. Avete l'alchemy che è limitata. Non è che potete utilizzare tutti i 150 crediti con l'alchemy. O meglio, sì, si può utilizzare ma avete fino a un tot di alchemy giornaliere. Ora non mi ricordo ma mi sembra che siano 3, 4, 5 al giorno. Qua selezionate il numero di immagini. Quindi parte dall'1 all'8. Però come vedete, ora l'alchemy è disattivato. Se io lo attivo, lui mi dice che devo andare ad acquistarlo perché ho già superato il limite. Comunque una volta lo attivate, qui non vi portano via solo 3 crediti, ma portano via 16-17 crediti alla volta. Che va anche più che bene perché si riescono a realizzare circa 9 immagini al giorno. Che secondo il mio punto di vista va più che bene. È una cosa giornaliera. Poi se lo utilizzate più spesso, vi fate l'abbonamento. Comunque, qua, selezionando quali numeri immagini, ovviamente più immagini che voi volete generare simili, più aumentano i crediti. Come vedete, se io voglio 2 immagini, i crediti mi aumentano a 5. Se io voglio 3 immagini a 8, fino ad arrivare a 4 immagini che sono 11 crediti. Dalla 5 alla 8 dovete farvi l'abbonamento, ovviamente. Però, consiglio che vi do io, generate un'immagine alla volta e ve la studiate. Qua selezionate la tipologia di immagini che volete fare. C'è la versione 2, photo real. Vi faccio vedere poi le immagini che ho fatto. Adesso me le hanno disabilitate perché ho finito le mie immagini giornaliere, diciamo. L'Alkmi, che vi consiglio assolutamente di tenere l'abilitata. Domani io, ad esempio, quando andrò a generare nuove immagini, la abilito subito. Mi porta via sì, 15-16 crediti. Ma quando io ho generato quelle 3, 4, barra 4 immagini al giorno, a me vanno più che bene. Poi qua ci sono altre funzioni, però io mi fermerei su queste due qua. E adesso vi vado a spiegare anche il perché. Ad esempio, qui, tenendo abilitato queste funzioni, qui andate a scrivere quello che volete. Vi consiglio di scrivere in inglese. Usate Google Traduttore come faccio io. Questa frase l'ho generata con Google Traduttore. Qua cosa gli dico? Di generarmi una città futuristica dove ci sono delle persone che camminano in scala di grigi. Quindi se io vado nella mia History, io l'ho già generata. Comunque se io vado nella mia History, ne ho generate due. E come vedete, me le ha fatte diverse. Se noi andiamo dentro, andiamo a vederle. Queste sono le immagini che lui ha creato. Che non sono niente male, secondo il mio punto di vista. Cosa che può fare anche Copilot. Però qui ci sono delle addoni in più con fronte a Copilot. Perché Copilot vi genera l'immagine e ce l'avete così. Invece qui potete andare a modificarla. Quindi potete prendere questa immagine. Già da qui ci sono alcune funzioni. Scusate se vado avanti e indietro. Ci sono alcune funzioni in cui potete scaricare l'immagine. Copiare il testo dell'immagine nella clipboard. Rimuovere il background, se in caso vi interessa. C'è la funzione Alchemy, che qui ci vuole l'abbonamento. Oppure cestinarla. Da qui però si può anche modificare. Se io voglio questa immagine. Basta che la scarico. Ok. Vado qui su Image to Image. Che sarebbe Image Guidance. Come vedete qui non posso utilizzarla perché è a pagamento. Però sinceramente non mi interessa. E inserire qui l'immagine. Quindi potete fare l'upload dell'immagine. Ora io ho fatto l'ultimo upload. Ho messo la mia immagine così per capire come funzionava. Comunque qui potete fare l'upload. Qua aggiungete l'immagine. E scegliete quella che volete. Come vedete ho inserito l'immagine. Ho inserito quello mio. Quello della mia compagna. Giusto per fare delle prove. Usciamo da qui. Poi vi faccio vedere tutto. E da qui possiamo selezionare la tipologia di immagine che vogliamo. Qui vedete ci sono diverse immagini. Poi andate su Select Other Model. Selezioniamo altri modelli. Così le vedete tutte quante. E come vedete sono divise un po' per categoria. Queste utilizzano l'Alchemy V2. Quindi questa parte qui. Che io sto qua. Questa qui dovete tenerla attiva. Mi raccomando per sfruttarla al massimo. In generale le immagini quando andate a crearle. Tenete sempre attiva l'Alchemy. Perché vi ripeto. Sfrutta al massimo l'intelligenza artificiale. Vi costa di più. Vi costa 5 volte di più. Però abbiamo 150 da crediti. 7-8 immagini vengono fuori tranquillamente. Torniamo qui. Scusate. Ok. E qui possiamo scegliere come vogliamo l'immagine che abbiamo fatto l'upload. Come la vogliamo renderizzare. Quindi si parte da questo stile d'immagine. C'è anche il photo real. Se volete. Poi ve le faccio vedere. Quelle che ho fatto io. Oppure in stile RPG. In stile manga. In stile futuristico. Ce ne sono un disastro. Anche in pixel art. Molto carine. Veramente. Qui selezionate. Dovete fare delle prove ovviamente. Come ho fatto io. E così capite un attimo come funziona. Ovviamente dopo aver inserito lì la vostra immagine. Dovete dargli un prompt qui. Quindi. La cosa importante. Utilizzate sempre il Google Traduttore. Ora io ho scritto questa cosa qua. Così intanto per ridere un po'. Un splendido ritratto in 4K. Di un soldato con capelli marroni. Primo piano adornato con abiti importanti. Seducente e grazioso. Realizzato in stile fotorealistico. Utilizzando tecniche di rendering avanzate. In scala di grigi. Quindi ho copiato questa cosa qui. L'ho messa qui. Sopra. E gli ho dato generate. Ora io non lo faccio perché le ho già create. Quindi andiamo a vedere quello che mi ha creato. Mi raccomando. Non ridete di quello che è venuto fuori. Perché sono veramente un po'. Un po' strane come foto. Comunque. L'ho fatta in stile cartonesco. Come vedete. Questa è la mia immagine. Di cui avevo in mano il pennello. Non so cosa mi ha messo in mano. Credo una pistola. Perché gli ho detto di farmela. Come un soldato. Comunque questa. Sarei io in versione cartonesca. Questa non c'entra niente. Questa è stata presa proprio. Senza mettere l'immagine. Gli ho detto a lui di crearmi un soldato. Volevo vedere cosa veniva fuori. In primo piano. Tutto quanto. E venuta fuori. Non è male. Come vedete. Non è male. Si può trasformare in scala di grigi. O può fare un rendering. Però. Sono cose che fa anche. Diciamo. Anche gli altri intelligenti artificiali. La cosa bella. E' che noi possiamo fare l'upload dell'immagine. Quello si. Vedete. Questa è sempre la mia immagine. In versione. Un po' più manga. Questa. E' sempre un altro stile. Cartonesco. Come vedete. Qui. Ci sono diversi stili. Se noi andiamo a vedere. Qua. Ci sono. Mi sembra di aver selezionato. Il Dream Shaper V7. Per quell'immagine lì. Poi dovete provare. L'RPG 4.0. Mi ha creato. E' comunque. Si possono vedere. Scusa. Ho sbagliato. Si possono vedere. Anche andando qui. Se noi andiamo a vedere la scritta qui. Andiamo a vedere. Cosa abbiamo utilizzato. Infatti. Abbiamo utilizzato. Immagine Guidance. Che sarebbe. La mia foto. Dream Shaper. Versione 7. Leonardo Style. E la risoluzione. Come vedete. Ho fatto diverse immagini. Questa ho utilizzato. Leonardo Kino XL. E questa è un'altra immagine mia. Questa è un'immagine. Leonardo Kino XL. Però con Foto Real. Versione 2. Boh. Siceramente. Non ci assomiglio per niente. Però. Dalla mia immagine. E' venuta fuori questa. Dopo qui. Gli ho detto. Di realizzarmela in 3D. E come vedete. Un po'. E' in 3D. Come vedete anche. Non so cos'è. Cos'è. Cos'ho in mano. Da un pennello. Siamo passati. A non so cos'è. Comunque questo. A questa. Che assomiglia. Un po' più. A un calibro. Però. Questa lì. Ho detto. Di crearmela. In manga. Direttamente. Poi ovviamente. Non è proprio perfetto. Perché alcune cose. Sinceramente. Boh. Non sono tanto il mio stile. Forse questa. Mi ci sia vicino. Un po' di più. Però vabbè. Dopo mi ha creato questa. Che ho preso. Come vedete. La foto della mia compagna. Siccome si vedeva solo la testa. Ha creato. La foto. La testa. Della mia compagna. Non so con cosa. Con cos'è. Questa cosa qui. Queste cose qui. Boh. Saranno degli errori. Però questa è l'immagine. Che ha creato. Proviamo anche. Magari. A rinserire la mia immagine. E rendiamola. Magari. Pixelosa. Giusto. Per provare assieme. Che sono curioso. Ok. Generiamo con questo modello. Andiamo su image. È già attivo. Boh. Bene. Quindi. Qua gli scriviamo. General. In scala di grigi. Ok. Lo cancelliamo qua. Lasciamo così. Semplice. Ovviamente. Più dati scrivete. Più viene precisa l'immagine. Quindi facciamo. Generate. Sta utilizzando l'intelligenza artificiale. Versione base. Perché è disabilitato. Se io la faccio con la versione Alchemy. Sicuramente viene migliore. Come vedete la versione base è proprio bruttina diciamo. Purtroppo non posso farvi vedere la versione Alchemy. Però queste qui sono state fatte con la versione Alchemy. E io ho finito le mie prove giornaliere. Come vedete la differenza è in mano. In effetti qua andate a consumare un credito. E viene fuori quello che viene fuori. Se voi andate a provare a fare l'Alchemy. State tranquilli che viene fuori una bella immagine pixelosa. Come volete. Qua potete selezionare le dimensioni. Io lascio standard 1024x768. Qua è la cosa carina. E potete selezionare l'Axpect Ratio. Quindi se è in 16 noni. E in 4 terzi. Cosa che dall'altra parte potremmo farla solo quadrata. Quindi 4 terzi se non sbaglio. Qui 16 noni. Verrebbe anche più chiarina insomma. E questa è la versione base. Possiamo fare anche l'upgrade. Come vedete l'upgrade ha un costo. Non guardiamo i 10 dollari. Perché questo è un costo annuale. Loro vi dicono c'è l'offerta. A posto di 12. Pagate 10 dollari al mese. Che moltiplicato per 12 mesi. Sono 120 dollari al mese. Però io la voglio farla mensile. Quindi mensile mi costa 12 dollari al mese. E avete diverse cose che sono sbloccate. Non tutte però diciamo già con questa versione. Avete soprattutto 8500 crediti al mese. Che non sono pochi. Vi spido a iniziare a usarli. Ovviamente se lo fate per lavoro. Per carità. Spongerete immagini ogni giorno. Quindi poi. Se uno lo fa per lavoro. Ha anche la possibilità di acquistare questa versione. Poi valutate voi. Io al momento mi godo quella gratuita. Perché sto ancora testando questa intelligenza artificiale. Che secondo me è ottima. Devo ancora fare delle prove. Ma le devo provare giornalmente. Comunque anche all'interno. Come vedete. Ci sono delle immagini stupende. Anche questa farfalla. È molto stupenda. E la bella cosa è che potete vedere il prompt che l'autore ha scritto. Quindi potete anche capire bene o male come realizzano queste immagini. Utilizzano quasi tutti il Photo Real V versione 2. Che è la nuova versione dell'intelligenza artificiale di Leonardo. Bene. Adesso andiamo a incidere un'immagine. Vediamo cosa ne salta fuori. E ora ne prendo una a caso. Non vi faccio vedere il passaggio. Comunque il passaggio è tra Imagier e Lightburn. E vi faccio vedere direttamente l'immagine incisa. Ed ecco qui l'immagine creata. Come potete vedere. Non sono stato lì tanto a modificare la foto. L'ho lasciata così com'era. Giusto per fare una prova di incisione. E come vedete. Si realizzano molto facilmente le immagini. Ovviamente questa è una piccola prova. Mi interessava solo capire come veniva elaborata l'immagine. Ovviamente poi utilizzeremo altri programmi. Per rendere migliore l'immagine. Come vi ho fatto vedere in altri tutorial. Tipo Imagier oppure per chi sa utilizzare anche lo stesso Photoshop. Diciamo che sono molto soddisfatto di come lavora questa intelligenza artificiale. Soprattutto perché oltre a creare l'immagine. Possiamo la stessa immagine modificarla con vari settaggi. Come avete visto ce ne sono una marea. Non mi sono messo a allencarli tutti quanti. Ne ho provati alcuni giusto per fare delle prove. Diciamo che possibilità per sbizzarrirci ce ne sono una valanga. Poi se vi interessa io posso approfondire di più questo tool qua di intelligenza artificiale. Anzi potrei anche prendere un abbonamento di prova di un mese. Magari prendiamo quello da principiante. Ora non mi ricordo come si chiama. Comunque quello da 12 dollari. Giusto per vedere quanto si apre. Quali funzioni nuove vengono introdotte con questa tipologia di abbonamento. Magari lasciatemi qui sotto nei commenti se può interessarvi una cosa del genere. Oppure se vi interessano altri tool gratuiti. Io posso approfondirli e esaminarli. Oppure se avete bisogno di alcune funzioni specifiche. E volete sapere qualcosa di Leonardo in questo caso. Scrivetemelo pure qui sotto nei commenti. Vediamo se possiamo realizzare un altro video. Sempre riguardo questa intelligenza artificiale. Sicuramente io ci dedicherò un po' più di tempo su questa intelligenza. Perché ho la possibilità di modificare le foto. E mi interessava questo. Sì perché realizzare le foto tramite il testo. Ci sono diverse intelligenze artificiali che lo fanno. Modificare la propria immagine. Sinceramente io conosco solo questo tool. Poi se voi ne conoscete altri ben venga. Scrivetemi pure qui sotto anche questo nei commenti. Che io potrò approfondire con altri video. Bene anche oggi abbiamo visto un nuovo tool. Molto interessante per la realizzazione delle nostre incisioni. E spero che questo video vi sia stato molto utile. E noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao!